Helmut Newton afferma Io fotografo le persone che amo e ammiro, la gente famosa e specialmente gli infami. Newton ha realizzato numerosi ritratti a personaggi famosi del Novecento, tra questi il ritratto Andy Warhol del 1974. La Gamm ha in collezione una sua opera, Orange Car Crash del 1963. In quest'opera Andy Warhol riprende un brano di vita attraverso la ripetizione di fotografie di un incidente stradale del 1959, così facendo in genera un antidoto alle emozioni forti dell'esistenza.